Questo entusiasmo che viene dalla campagna abbonamenti scaturisce da un obiettivo perché quello che l'anno scorso è sfuggito per un inizio un po' così ma che è chiaro che quest'anno in molti magari non nominano però lo diciamo noi la vittoria del campionato, questo entusiasmo a quel orizzonte. Beh sì, se guardo alla finestra e alla porta vedo una lettera, la lettera C e quindi spero che la lettera C quest'anno possa essere impressa alla fine del campionato sui petti dei giocatori e quindi mi auguro appunto che arrivi la promozione è difficile perché abbiamo tanti avversari, sono convinto che quest'anno anche se la Reganatese tra le marchigiane ha allestito una rosa importante però sono convinto che quest'anno la vittoria del campionato sarà tra abruzzesi. Anche perché sarebbe il coronamento di quella promessa al centenario riportare l'Avezzano tra professionisti? Sì, solo sentirlo dire da te mi fa venire i brividi e mi emoziona quindi significa che quello che hai detto è la verità. Oggi tra l'altro fermo una conferenza stampa di presentazione dell'iscrizione della squadra al campionato di Serie D quindi è stata formalizzata grazie al sottoscritto e grazie al vicepresidente Luciano D'Alessandro quindi saranno anche due gli sponsor quest'anno sulle maglie della società saranno la Marzos Birra e la Zeta Cleaning, la società appunto del vicepresidente D'Alessandro. squadra importante, organico confermato per l'85%, abbiamo tenuto tutti gli over sostanzialmente, i titolari crediamo che l'endicap di partenza dello scorso anno possa diventare invece la nostra arma vincente in questa stagione 2018-2019. Ma chi glielo ha fatto fare all'Avezzano per pochi soldi di prendere tre punti di penalizzazione e partire ad Endica? Beh, perché a volte vale più l'idea del rispetto di alcune cose nella vita civile che poi si sommano nel principio della vita sportiva e quindi tutto è nato semplicemente per insegnare a qualcuno qualcosa e quindi anche, come è stato nel caso concreto, di rimetterci tre punti di penalizzazione ma la squadra lo sa, dobbiamo vincere la prima partita il prima possibile e metterci alla pari con gli altri. Sicuramente ci vorranno tre giornate per essere primi e speriamo che bastino.